Sì, 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 sì Ripeto, per noi è sempre una gioia avere Daniele con noi perché è quando non perde il cappello è veramente parte della nostra famiglia da tanto tempo e di ciò gli siamo infinitamente grati quindi chi non l'avesse fatto e si vuole iscrivere al Jam Session o meglio ancora si vuole tesserare all'Italian Blues River il banchetto è qui alla mia destra e facciamo spazio alla grande musica di Daniele Tenka e della nostra Resident Band Buona serata Ciao a tutti, buonasera, benvenuti Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.